gentili telespettatori buona giornata l'assessore avanzi di fratelli d'italia esce dall'aula mentre viene conferita la cittadinanza a liliana segre quindi la sinistra quando ha visto l'esponente di fratelli d'italia uscire dalla votazione dal momento nel momento in cui si votava per la cittadinanza un oraria non so se era un orario no a liliana segre subito ha gridato allo scandalo avete visto è lui è lui sono loro sono tornati sono sempre stati loro cittadinanza liliana segre questo esce dall'aula eccoli si sono svelati ma intanto fratelli d'italia ha votato a favore ad esenzano lui replica strumentalizzazione ma veramente strumentalizzazione o c'è dell'altro allora la sinistra cerca tutte queste occasioni per gridare al lupo al lupo sono tornati sono sempre loro stanno marciando su roma aiuto ecco ma l'impressione che sia andata proprio in scena una strumentalizzazione bella e buona e lo si capisce poi da una da un particolare c'è un particolare che scagiona completamente l'assessore avanzi adesso arriviamo a questo particolare intanto avanzi dice la mia famiglia conosce bene quella pagina della storia orribile fratelli d'italia ha votato a favore della cittadinanza tutti hanno votato a favore ma ieri a desenzano del garda mentre il consiglio comunale conferiva la cittadinanza un oraria alla senatrice segre liliana l'assessore alla cultura pietro avanzi di fratelli d'italia non era presente in aula è uscito poco prima della votazione e rientrato dopo il voto a quanto pare per una telefonata urgente che ha ricevuto e a sinistra dicono è già ma chi la racconta è ma chi ce la racconta la telefonata urgente proprio durante il voto l'ampi l'associazione nazionale partigiani non ha digerito questo dice un comportamento deplorevole che però non ci sorprende avanzi da sempre non partecipa al 25 aprile e non è nuovo a questo tipo di dimostrazioni ringraziamo invece il sindaco ma l'inverno che si è speso per questa nostra nobile causa ma c'è un partito non siamo ancora arrivati al particolare avanzi si è detto offeso per la strumentalizzazione dice mia madre è tetesca così come altri miei familiari sono germanici e conosco bene l'orrore di quella pagina di storia per questo su quanto accaduto in aulia in aula consigliare mi sento doppiamente offeso sono anche segretario politico di fratelli italia e non ci siamo mai opposti alla cittadinanza onoraria liliana segre visto che i consiglieri comunali di fratelli italia hanno votato a favore il particolare che lo scagionerebbe al 99 per cento 99 perché non possiamo avere la certezza che lui si sia alzato e sia uscito anche per un un gesto dimostrativo verso se stesso verso la sua linea che non so però c'è un particolare che mi fa essere abbastanza sicuro nel scagionare il questa persona perché il se questo il segretario dov'è che il segretario di fratelli italia di disenzano che ricopre il ruolo di assessore non può neanche votare in aula visto che si è dimesso da consigliere comunale pertanto non è che è uscito per non votare è uscito non sappiamo esattamente perché ma lui non poteva votare cioè comunque sia lui non avrebbe potuto votare perché si è dimesso da consigliere comunale quindi non è uscito per dire io comunque il mio voto non lo do io non posso il mio voto è uscito non avrebbe potuto votare quindi andare fuori per questa telefonata o stare lì seduto non avrebbe comportato assolutamente nulla di diverso nella votazione perché lui non poteva votare visto che si è dimesso da consigliere comunale hanno fatto intervenire anche l'associazione nazionale portigiani per un gesto deplorevole deplorevole che però dicono non ci sorprende perché lui non partecipa al 25 aprile ma guardate io non ho mai festeggiato il 25 aprile non peraltro perché sinceramente ho sempre lavorato il 25 aprile ero sempre in giro per l'italia e poi sinceramente non non è che non ho partecipato mai al 25 aprile chissà per quale motivo sinceramente non mi è passato neanche per la testa di andare in piazza insomma 25 aprile sono d'accordissimo sulla festa ma non ho mai festeggiato il 25 aprile come non ho mai festeggiato tante altre feste non per presa di posizione ideologica semplicemente perché quel 25 aprile ogni anno sempre fatto dell'altro o lavorato fatto delle gite o ero chissà dove io non sono mai andato in piazza con le bandiere perché sinceramente nel 2023 non vedo non vedo la festa in piazza dice ecco quindi non c'è niente in me contro il 25 aprile adesso non so questo perché un esponente politico il 25 aprile deve per forza andare in piazza a festeggiare io credo che il non festeggiare non voglia dire essere contro una festa significa semplicemente che magari uno quel giorno vuole fare dell'altro c'è al posto che andare in piazza a festeggiare va bene non c'è bisogno di festeggiare già ecco è un po come a natale natale non è che vai a festeggiare in piazza oppure non so a ferragosto non è che vai a festeggiare in piazza il 26 dicembre che festa non è che vai a festeggiare in piazza ecco insomma almeno io non ho mai festeggiato non perché contro il 25 aprile ci mancherebbe altro ma perché semplicemente facevo dell'altro non sono uno da piazze io non sono uno da piazze né di qua né di là ma proprio perché non mi interessa non faccio il numero in qualche piazza non l'ho mai fatto e mai lo farò lascio agli altri le piazze grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie